e siamo di nuovo in diretta sul canale 17 di Fano TV per fare un bilancio sono dei comuni della provincia di Pesero Urbino ospite questa sera di primo cittadino il sindaco di San Lorenzo in campo Davide Dellonti buonasera sindaco buonasera Simone buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV e grazie dell'invito grazie a lei per aver raggiunto i nostri studi come ho accennato anche nel corso del nostro telegiornale Occhia alla Notizia i telespettatori potranno intervenire per mandarci dei messaggi al 338 49 68 250 oppure possono intervenire in diretta per farci appunto per rivolgere le domande e il suo secondo mandato è stato riconfermato proprio lo scorso anno nel maggio del 2019 intanto se lo aspettava lo speravo sicuramente ma un risultato chiaramente è l'auspicio di tutti fare il secondo mandato perché nell'attività amministrativa è importante vedere a termine quelli che sono i lavori che uno mette in campo nei primi cinque anni di mandato e continuare l'attività amministrativa l'orizzonte temporale di cinque anni può sembrare lungo in realtà per un'attività amministrativa come quella nei comuni nei piccoli comuni come il nostro è un orizzonte non così ampio quindi i dieci anni sono una cosa che fa sicuramente da soddisfazione e me l'aspettavo diciamo che alla fine sì perché sono uno dei tanti comuni purtroppo nella provincia di Piedobino si sono presentati nel 2019 con una sola lista qui quindi lo scoglio era quello del quorum in tutti i comuni è stato ampiamente superato e quindi eccomi qua insomma crede di avere soddisfatto i cittadini nei primi cinque anni del suo mandato rispetto anche alle promesse che aveva fatto in campagna elettorale sicuramente l'attività è stata molto molto intensa e abbiamo posto le basi per la risoluzione di una serie molto ampia direi di problematiche e di casi risolti che c'erano nel nostro nel nostro comune sicuramente siamo sono e siamo come lista rimasti molto soddisfatti del risultato diciamo che però non la vedo come un secondo mandato ma quasi la continuazione del primo perché se lei pensa che quattro quinti della giunta sono rimasti mutati molto spesso infatti dico che non sono all'inizio del secondo mandato ma sono un po' più della metà del mandato è una continuazione è una continuazione iniziamo subito a leggere i messaggi che ci sono arrivati o perlomeno iniziamo a parlare di questo maxi allevamento che dovrebbe forse no sorgere a San Lorenzo in campo perché ci sono arrivati appunto diversi messaggi intanto ricordiamo anche come stanno le cose ci sono stati diversi incontri pubblici si è costituito un comitato contrario appunto questa realizzazione l'amministrazione comunale che cosa ne pensa? Allora chiaramente la questione è molto molto complessa però siamo alle battute finali perché poi dirò quello che andremo a fare sabato mattina in consiglio comunale perché come dico spesso chiaramente i tempi dell'amministrazione sono dei tempi che hanno delle scadenze e che sono dettate dalla legge e quindi quello che noi andiamo a rispettare appunto questo poi se qualcuno magari pensava che non avessimo dato seguito e non daremo seguito quello che ho scritto a caratteri cubitali a metà di dicembre di questo ve ne dispiace ma sicuramente io sono abituato a fare quello che ho detto di fare quindi sabato mattina si andrà in consiglio per stoppare la variante urbanistica che è la parte di nostra competenza e quindi dal punto di vista del comune non solo faremo lo stop della variante ma faremo anche altri atti che sono assolutamente necessari per fare in modo che si dia corso a quello che si è detto ovvero lo stop dell'allevamento. Si è arrivati a questa decisione con una procedura abbastanza complessa e lunga di ragionamento di vaglio di tutte le problematiche di tutte le opportunità quindi un bilancio costi benefici per il nostro territorio l'intera nostra comunità e mai la salute dei cittadini o non ascoltare i cittadini non è stato preso in considerazione questo no. Chiaramente il là a questa decisione finale si è avuto con una nostra osservazione in sede di Vasse di Via che è stata fatta il 4 di ottobre nella quale avevamo recepito anche grazie al dialogo con in questo caso un'associazione dei cittadini con cui abbiamo interloquito in un'occasione precisa per valutare quella che era il discorso delle emissioni od origine e delle emissioni in atmosfera quindi quello che dal vento diciamo viene portato nelle varie zone del territorio non solo comunale ma anche oltre il nostro comune e quindi da lì con un approfondimento che la ditta ci ha fornito poi i primi giorni di dicembre si è arrivati a questa decisione quindi è stata una procedura e un ragionamento chiaro anche perché un'amministrazione non può dare dei no a prescindere. Anche a un'azienda come questa che avrebbe investito diversi milioni di euro. Sono doverose delle valutazioni. Sono doverose delle attente valutazioni e alla fine però si prende, ovviamente siamo qui per prendere delle decisioni, posso un piacere, posso non un piacere la decisione insomma è quella che è stata comunicata e come ho detto prima alle parole seguono i fatti perché non si rimane sulle parole soltanto assolutamente perché poi come dico spesso la faccia è questa quindi voglio andare a testa alta nel mio paese. Le devo dire la verità ci stanno arrivando diversi messaggi ma non sono tutti contrari c'è chi chiede informazioni sulla salute pubblica e che quindi è contrario chi invece è a favore di questo allevamento le chiedono anche se potrebbe precisare eventuali danni che verrebbero provocati alla salute perché appunto essendo favorevoli non credono che questo allevamento possa arrecare danni così ingenti anzi. Allora chiaramente la situazione è molto complicata come dicevo prima perché nella popolazione ovviamente non c'è solo il contrario c'è anche chi è a favore e quindi il punto qual è? E' che la decisione scaturita da un'analisi che riguarda in maniera particolare quella che è proprio stato il là che ci ha dato per questa decisione finale è stato appunto il discorso delle emissioni d'origine e in atmosfera cambiando di molto quello che era l'impatto sulle varie zone del nostro territorio non solo delle emissioni d'origine è chiaro che una vasta area popolata non solo di abitazioni private ma anche di attività commerciali attività di produzioni locali tipiche d'eccellenza non possono essere affette da un problema che nel momento in cui l'allevamento, l'insediamento è presente difficilmente potrebbero essere comunque mitigate anche se la legge comunque prevede tutta una serie di azioni che possono essere condotte anche in fase successiva quindi il ragionamento è stato questo, chiaramente le scelte vanno fatte e non tutti possono essere magari d'accordo però credo che la decisione è stata quella di fare un bilancio molto preciso quindi mettere su due piatti quelli che possono essere i benefici, quelli che possono essere le cose che invece non portano assolutamente beneficio all'intera comunità e quindi la decisione si fa in questa maniera Credo che lei abbia risposto più o meno a tutte le domande che hanno fatto i nostri telespettatori direi di andare avanti perché questa sera dovremmo affrontare diversi argomenti quindi mi piacerebbe insomma trattarli un po' tutti e passiamo ai lavori pubblici in particolare a quelli di demolizione dell'ex scuola media abbiamo anche tante fotografie che mostrano insomma questi lavori e lavori in vista di una costruzione di un edificio sicuramente molto più moderno, efficiente intanto a che punto sono? Allora, i lavori sono partiti la fine di ottobre del 2019 chiaramente è un'opera di un milione e cinquanta mila euro quindi a tutta una serie di complessità sia nell'affidamento dei lavori che nella direzione lavori quindi l'autorizzazione sismica e quant'altro e quindi siamo partiti a fine dell'ottobre dello scorso anno con la prima fase che è stata ovviamente la demolizione del vecchio edificio beh è stato intanto un momento emozionante direi perché chiaramente in quella scuola ci hanno fatto le scuole medie tanti ragazze e ragazzi forse un po' tutti me compreso anche io sono stato fra gli ultimi a fare le scuole medie all'interno di quell'edificio quindi è stata una cosa emozionante ed ha lasciato quindi un segno nella popolazione oggi siamo nella fase in cui stiamo facendo una bonifica ambientale del sito per un rinvenimento che è stato fatto al di sotto dell'edificio quindi nel giro massimo di un mese potranno essere ripresi assolutamente i lavori quindi con i pali di fondazione quindi la costruzione del nuovo edificio che è quello che vediamo un edificio che sarà una parte in piazza coperta e la parte retrostante ad uffici con il piano sottostante che è stato acquistato in prevendita dalla Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo e la parte superiore che saranno invece uffici per il comune e sempre al piano terra il nuovo punto turistico, il punto IAT che oggi si trova in una situazione, in un luogo molto poco accessibile, molto defilato invece lì sarà in pieno centro quindi in una situazione assolutamente di pregio è stata una bella soddisfazione e adesso sarà sicuramente una bella soddisfazione vedere i lavori procedere Possiamo dire una delle opere più importanti, la storia di San Lorenzo in campo? Sicuramente è un'opera che lascia il segno la scuola era chiusa lì, ferma, abbandonata da circa 20 anni molti ci hanno provato a fare qualcosa, noi ci siamo riusciti sono quelle soddisfazioni che sicuramente ripagano l'attività di un sindaco Costo dell'intervento e i fini dei lavori? Costo dell'intervento è 1.050.000 euro, fine dei lavori sono circa 500 giorni e quindi diciamo che un anno e dieci mesi, un anno e otto mesi più o meno da quando reiniziamo dovremmo esserci Passiamo invece alla piazzetta, anche lì ci sono stati dei lavori di riqualificazione Sì, la piazza fra le due scuole è stata oggetto di interventi di illuminazione perché quell'area è dall'inizio del mandato precedente un'area dove ci si è lavorato per l'adeguamento sismico e il restauro dell'asilo della scuola dell'infanzia contestualmente a quell'intervento è stato fatto un lavoro della nuova piazza quindi fra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria mancava qualcosa, mancava gli elementi di arredo urbano e un'illuminazione a led ad alta efficienza e quindi abbiamo concluso quest'opera con questa bella illuminazione che è diventato, devo dire, un luogo dove ci si ritrovano i ragazzi giocano anche lì d'estate, giocano con il pallone qualche volta e quindi un altro di quei luoghi insieme a piazza Gelo Giorgi che la comunità si era appropriata da luoghi un po' bui e un po' abbandonati oggi si sono ritornati ad essere dei luoghi fruiti e fruibili Fontana della Piede, anche lì una bella ristrutturazione Sì, anche lì una bella ristrutturazione che qui Art Bonus grazie sempre alla BCC di Pergola e Corinaldo un'opera che abbiamo inaugurato lo scorso febbraio se non vado a rato è stata un'opera completa di ristrutturazione degli elementi lapide, di ricostruzione di quelli che erano gli elementi bancanti di pulitura, quindi infatti da una ditta specializzata del settore rifunzionalizzazione, quindi tutta la parte impiantistica della fontana, illuminazione e anche questa in pieno centro si sposa assolutamente in quella che è l'opera di rimessa in sesto del nostro centro storico un'opera sulla quale stiamo già progettando da ulteriori interventi per questo mandato insomma fino al 2024 perché abbiamo ancora molto da fare in quella zona e dobbiamo proseguire anche con i marciapiedi dall'altro lato, abbiamo fatto un lato nel mandato precedente, dobbiamo concludere così che tutta la zona sarà rimessa in sesto e molto più fruibile, molto più bella Da questo taglio del nastro andiamo in Viale Regina Margherita perché anche lì ci sono dei lavori in corso primo lotto concluso Primo lotto concluso queste sono immagini dell'inaugurazione abbiamo fatto un intervento di 171 mila euro per Viale Regina Margherita non solo la pavimentazione ma anche tutti i sottoservizi l'illuminazione, l'arredo urbano completo insomma, lavoro completo e siamo già in fase di appalto con i lavori del secondo lotto ulteriori 150 mila euro e andremo praticamente quasi a concludere tutta la parte salendo verso Pergola lato sinistro e quindi andremo a chiudere un'ulteriore parte anche questo è un lavoro che alla fine del mandato ci auguriamo di poter completare chiaramente il Viale è molto lungo ma stiamo predisponendo tutte le risorse per concludere l'opera Andiamo avanti con le domande le nostre cittadine, i nostri telespettatori le chiedono informazioni per quanto riguarda lavori di asfaltatura, cunette, nuovi tombini avete già programmato il piano di intervento? Sì, abbiamo lo scorso mandato investito circa 700 mila euro in viabilità che per il nostro comune sicuramente non è poco anzi è un'opera importante abbiamo concluso degli ultimi lavori che riguardavano un appalto generale di 150 mila euro la scorsa estate, lo scorso inizio autunno stiamo predisponendo un ulteriore lotto per le strade esterne e quelle residuali interne che sono rimaste da attenzionare Dovremmo avere delle immagini anche relativamente a questi lavori di asfaltatura Ci sono delle vie questa è la variante questo è un altro lavoro di cui magari parleremo dopo Infatti già gli stanno chiedendo informazioni anche su questo Ecco qua Poi leggerò i messaggi Questa è la strada che dal borgo di San Vito sul Cesano porta al cimitero Questa è un'altra strada sempre nella zona di San Vito sul Cesano Questa è sotto le mura di San Vito sul Cesano Questo ultimo lotto si è dato molto riguardo a quella zona che era carente di alcune opere Invece questa strada del cimitero del capoluogo Insomma asfalti che non venivano rifatti da anni Beh sì, c'erano dei problemi chiaramente è stato necessario intervenire Già, anzi oggi lunedì ieri mattina avrebbe anche se domenica sia l'assessore Bonifazzi insieme a due consiglieri Ferri e Rosa Cristina hanno fatto un ulteriore superluogo su tutta una zona per programmare questi interventi per definire alcuni dettagli per cui poter partire con questi lavori prima possibile I bambini delle scuole dell'infanzia non hanno uno spazio esterno dove poter giocare pensa Sindaco di recintare una parte dei giardini pubblici? Sì, questa è una domanda molto molto interessante ringrazio anche chi l'ha fatta perché mi dà spazio per poter intervenire anche su questo abbiamo da attendere l'esito di un grosso finanziamento del Ministero dell'Istruzione nel momento in cui e penso oramai perché abbiamo avuto delle ulteriori integrazioni pochissimi giorni fa nel momento in cui prima possibile avremo questo risultato del Ministero dell'Istruzione quindi di questo bando molto importante potremmo programmare quell'intervento la Regione oltretutto insieme sempre al Ministero ha sbloccato i fondi dello 06 anni proprio pochi giorni fa quindi la prima opera insomma che metteremo in campo per il fondo 06 anni sarà dare soprattutto alla scuola dell'infanzia uno spazio assolutamente degno nei giardini pubblici credo che la cittadinanza capirà molto di buon grado questa esigenza per i nostri bambini mentre la primaria ha un luogo anche al retro dell'edificio che è stato anche attrezzato con dei giochi acquistati e delle panchine acquistate proprio lo scorso anno Poi parleremo anche di scuole di mense scolastiche entraremo un po' più nel dettaglio intanto però voglio fare altre domande o meglio le vado a leggere le chiedono se la nuova struttura che sorgerà al centro della piazza non sia un po' troppo futuristica o comunque poco contestualizzabile che cosa risponde? Beh questa è un'obiezione che qualche volta è stata fatta da qualche cittadino chiaramente ascoltiamo ascoltiamo bene tutti quanti coloro che vogliono fare qualche qualche critica costruttiva come potrebbe essere questa chiaramente in un luogo come quello si interviene in due in due modi o si interviene con un'opera di restauro a imitazione dell'antico così si dice oppure si interviene con un'opera un po' di impatto si è scelto per questa seconda seconda opzione oltretutto contiamo anche che l'edificato urbano di quella zona non è un edificato basta vederlo oggi perché oggi abbiamo la demolizione che è finita quindi vediamo quella che è la la scena di di contesto al di fuori di quell'edificio vediamo che ci sono molti edifici incongrui molti edifici che non sono storici e che sono degli anni magari 60 70 in cui si costruiva in maniera sicuramente diversa e con meno sensibilità chiaramente in quella in quella porzione bisogna bisogna studiare un metodo per intervenire in maniera corretta e le strade sono le due come ho detto prima si è deciso per fare un'opera abbastanza di impatto ma chiaramente con dei richiami alla storicità del nostro luogo quindi il tema della loggia sono dei temi sviluppati sviluppati in chiave più moderna ma sono dei temi che legano assolutamente quello che è la storia dell'urbanistica edilizia le tipologie edilizie del nostro centro storico oltretutto quella parte che c'è di fronte a piazza coperta è il perno di unione fra piazza verdi e via Vittorio Veneto quindi c'è anche quella funzione San Lorenzo non ha un regolamento dei passi carrabili quindi le chiedono se in questo secondo mandato pensa di mettere mano a questo progetto visto che potrebbe essere anche un'entrata economica per il comune stesso questa è una domanda molto interessante faccio anche qui complimenti anche intelligente intelligente e che denota molta molta conoscenza delle questioni perché è vero San Lorenzo in campo non ha un regolamento dei passi carrabili quando qualche persona soprattutto disabili ci chiedono dei posteggi appositi oppure una regolamentazione specifica nei passi carrabili nei garage siamo sempre un po' in difficoltà perché non c'è questo regolamento chiaramente oggi possiamo è una cosa che dobbiamo assolutamente fare non si non si può fuggire da questo e lo faremo grazie anche all'unione della polizia locale della media Valcesano che abbiamo insieme al comune di Mondavio e di Monteporzo con il comandante Golfardo Carbonari che su questo tema ha già esperienza perché Mondavio e Monteporzo lo hanno quindi sarà una cosa assolutamente da fare e un'entrata oltretutto brutto dirlo ma c'è anche questo ma soprattutto dà risposte a coloro che si trovano in una condizione di difficoltà e quindi non possiamo negare risposte a coloro che hanno degli svantaggi rispetto ad altre persone Ci stanno chiedendo in diversi informazioni sulle periferie ma non ne parlate insomma sono abbandonate assolutamente no è normale che avremo parlato anche delle periferie aspetta un attimo di concludere questi lavori pubblici ma allora ci torneremo dopo passiamo ai borghi un'attenzione rivolta anche a questi alle frazioni le frazioni allora frazioni principali sono Montalfoglio e San Vito sul Cesano su Montalfoglio ci sono due progettualità che riguardano sia le mura storiche che una parte importante di pavimentazione soprattutto tutta la zona di eccesso la scala che dall'arco di eccesso porta la piazza San Martino una è con il GAL quindi fondi europei tramite l'agruzione locale e un'altra con un bando governativo che è dal 2016 che va avanti questo bando ci hanno fatto fare tutti i passaggi siamo 260 comuni in Italia che hanno avuto questo finanziamento siamo arrivati al progetto esecutivo abbiamo il parere della sovrintendenza abbiamo tutto tendiamo veramente il giro di settimane o massimo uno due mesi per poter iniziare perché sono ormai solo da appaltare questi lavori e per poter concludere anche questo intervento iniziarlo e concluderlo oltretutto a Montalfoglio si è fatta anche una piccola porzione di pavimentazione nel centro storico grazie a una collaborazione anche qui pubblico privato che sicuramente dai suoi dai suoi effetti ringraziamo coloro che si sono adoperati anche per questo per San Vito c'è stato diciamo un grosso interesse anche per quanto riguarda le strade esterne rimane da fare un intervento importante nella zona della Pieve di San Vito per l'asfaltatura interna quindi questo sarà uno dei primi interventi che abbiamo calendarizzato anche qui c'è una contribuzione da parte della Multiservizi con degli scavi che erano stati fatti precedentemente in maniera non dico non congrua ma in maniera da rimetterci mano insieme alla loro collaborazione e a San Vito è stato rifatto per esempio uno dei punti più caratteristici del borgo interno quindi la piazzetta di Fonte Marina era un l'avamo detto qui oltretutto a marzo dell'anno scorso che avremmo iniziato questi lavori l'abbiamo conclusi nell'autunno dello scorso anno un intervento di circa 15 mila euro un intervento importante non tanto per la cifra che ovviamente non è enorme ma per l'affetto che i sanvitesi hanno nei confronti di quel luogo oltretutto nei giorni scorsi altra questione importante è stato inviato un bando fatto dal governo centrale per il dissesto idrogeologico questo riguarda le zone esterne perché riguarda tre zone di frana una la frana che è oltre il cimitero di San Vito sul Cesano un'altra una frana cosiddetta frana olivo sempre nella zona di San Vito sul Cesano e una è la zona di Miralbello la strada che dall'ex Von Felten conduce alla Cava Lim quindi lì c'è un'altra situazione importante di erosione della sponda fluviale quindi è stato chiesto un intervento anche in quella zona e a San Vito invece stiamo predisponendo le somme per la parte di mura che sono crollate oramai un po' di tempo fa e che hanno necessità di messa in sicurezza sia per il capoluogo sia per le frazioni le chiedono informazioni anche sulla riconversione dell'illuminazione sì la riconversione dell'illuminazione un altro dei progetti sui quali stiamo lavorando abbiamo ricevuto proprio poche settimane fa la versione oramai definitiva per poter andare in appalto dell'efficientamento energetico dell'intera pubblica illuminazione quindi tutti i 1100 punti luce che ci sono nel nostro comune capoluogo frazione zone sparse ogni zona dove c'è un punto luce viene riconvertito e viene messo a led in alta efficienza questo non riguarda solo la messa in sicurezza messa a norma chiaramente è già norma anche oggi ovviamente questo ci mancherebbe altro però la messa a led di tutti i punti luce riguarda anche dei quadri elettrici alcune parti delle linee alcuni pali di pubblica illuminazione quindi non riguarda solo questo ma riguarda anche l'efficientamento energetico di tutti gli edifici pubblici e questo intervento generale di circa 800 mila euro verrà fatto non con i soldi con soldi propri risorse proprie del bilancio comunale ma con il metodo del project financing che è un metodo che riguarda in pratica il mettere in campo questo progetto con un canone anno per x anni dove colui che realizza l'opera poi viene ripagato da questo canone anno e da risparmio energetico che avrà gestendo sia il vettore elettrico che il vettore termico di entrambe le progettualità quindi questo lo dovremmo portare in consiglio penso a breve gli uffici ci stanno già lavorando per poter andare poi dopo in appalto e quindi potremmo dare una risposta anche su questo tema Sindaco dobbiamo affrontare ancora tanti altri argomenti che riguardano lavori pubblici scuole appunto progetti teatro cultura e ci sono arrivati tanti messaggi per le domande da parte dei telespettatori che dovrò poi andare a porle poi però ci dobbiamo fermare abbiamo tanto altro di cui parlare ci fermiamo per qualche istante di pubblicità a fra poco siamo tornati in diretta con il sindaco di St. Lorenzo in campo Davide Dell'Onti iniziamo dai contributi contributi per le facciate confermati anche per il 2020 sì anche per il 2020 ci saranno dei contributi ai privati che vogliono mettere mano alle facciate gli immobili nei centri storici quindi non solo il capoluogo ma anche le frazioni questi sono tre interventi che sono stati realizzati per il bando 2017-2018 uno nel capoluogo proprio in piazza Umberto I due a San Vito sul Cesano con questi contributi che il comune dà a fondo perduto a coloro che vogliono investire nei centri far sì che i centri restino popolati siano decorosi siano insomma messi a posto e quindi anche quest'anno è stato fatto il bando a fine 2019 ci sono state ulteriori due domande e verranno riconfermati anche negli anni successivi perché è un metodo che consente di poter dire da parte dell'amministrazione grazie a coloro che investono in questo senso ha avuto oltretutto un successo anche perché diversi comuni del circondario ci hanno chiesto il regolamento che abbiamo adottato per vedere se anche loro potevano adottarne uno simile quindi questo sicuramente ci fa piacere oltretutto rientra all'interno di un pacchetto di misure che vanno ad incentivare coloro che fanno questi lavori quindi anche per quanto riguarda la Tossa per quanto riguarda l'Imu c'è tutto un pacchetto di misure tributarie di sgravi di essenzioni di contributi che sono stati pensati appositamente per certe categorie anche per l'incentivazione della nascita c'è un contributo sull'Atari un contributo per l'Atari a coloro alle aziende che hanno dei nuovi dipendenti anche questo lo stanno utilizzando in alcune aziende lo stanno già utilizzando insomma ci fa piacere perché elaborare questi regolamenti queste modalità non è sicuramente semplice vedere che qualcuno ne usufruisce le apprezza è un bel segnale Sindaco San Lorenzo non ha mai avuto un palazzetto dello sport una palestra? No era uno dei problemi maggiori forse che avevamo nel nostro comune abbiamo attualmente una palestra che purtroppo è molto piccola su cui abbiamo fatto dei lavori e dobbiamo ancora finire per 142 mila euro circa di intervento complessivo per anche l'efficientamento energetico cambio delle serature degli infissi quindi però era un problema grosso perché non aveva non aveva spazi adeguati un milione e tre di investimento la nuova palestra barra palazzetto dello sport polifunzionale che sarà uno spazio anche per adeguato dal punto di vista della certificata di prevenzione di incendi e delle regole che sottendono al pubblico spettacolo per far sì che possono tenersi all'interno anche degli eventi di un certo tipo per una capienza sicuramente importante siamo nella fase di aver appaltato i lavori stiamo contrattualizzando con la ditta che ha vinto la gara stiamo facendo la gara per la direzione dei lavori diciamo che data inizio lavori posso sbilanciarmi che potrà essere sicuramente questa primavera se non fine marzo primi di aprile potremmo essere pronti per dare avvio questa importante opera è una bella risposta anche per un punto di aggregazione sicuramente molto importante per le nostre società sportive che svolgono un lavoro veramente incommiabile sul territorio e quindi si darà risposta anche a questo si darà risposta anche a quelle esigenze che oggi magari se dobbiamo fare un'assemblea con tante persone abbiamo dei problemi lì magari potremmo avere qualche invece risoluzione di queste problematiche spazi sicuramente ampi e qui abbiamo avuto un milione a fondo perduto dalla regione Marche e dal MIUR per edilizie scolastiche insomma è importante ricordarlo questo altri messaggi per lei come mai i lavori della variante si sono fermati ancora in che punto della strada statale uscirà la nuova variante i lavori della variante non si sono fermati sono stati fatti dei lavori propedeutici allora in queste immagini vediamo la messa in possesso dei terreni che sono stati oggetto di sproprio che è relativa alle scorse state sono stati fatti i lavori che riguardano lo sminamento il cosiddetto sminamento ovvero la bonifica dagli ordigni bellici che possono esserci sul percorso della variante questa fase è stata seguita in collaborazione ovviamente da parte della provincia sotto sorveglianza dal genio militare di ufficio di Padova che darà delle autorizzazioni veramente a breve già una prima preautorizzazione arrivata la seconda deve arrivare appena arriverà quella autorizzazione ulteriore la provincia che è l'ente che poi realizza quest'opera potrà dare l'avvio a questi importanti lavori dove esce esce in una rotatoria che è circa l'altezza dell'incrocio attuale Piero della Francesca zona Bagnara c'è una vasta zona verde andando in direzione pergola sulla sinistra dove avviene la rotatoria nuova di innesto del vecchio tracciato della nuova variante di via Bagnara è importante dire che l'opera è di 2 milioni e 2 ed è stata frutto della sinergia strettissima che abbiamo avuto fra provincia regione regione Marche e comune e qui bisogna che ringrazio diverse persone adesso dirle tutte non abbiamo tempo ne sono veramente tante dalla provincia dall'ex presidente Tagliolini il presidente Paolini al consigliere regionale vicepresidente del consiglio regionale Renato Claudio Minardi insomma lavoro di squadra insomma lavoro di squadra perché perché nel passaggio di funzioni fra quelle che sono le funzioni che erano prima in capo alle province e poi sono state ridemandate alle regioni è stato necessario rimettere questi 2 milioni e 2 e quindi in quella fase il lavoro è stato complesso ma alla fine anche qui si avrà un bel risultato e risolveremo una problematica perché poi avere il traffico pesante quello che fa più rumore quello che fa più vibrazione inquinamento e disagio sarà di fuori del centro storico quindi anche lì si apriranno una serie di scenari per il progetto per San Lorenzo come dico spesso quindi quello che è il nuovo assetto generale urbanistico ed inizio di opere pubbliche all'interno del nostro capoluogo Sindaco non abbiamo ancora tanto tempo abbiamo tanti argomenti nuovo parcheggio in centro fase di progettazione questo è legato al discorso dell'ex scuola media perché chiaramente con i lavori dell'ex scuola media si sono ridotti dei posti auto con un accordo di comodato d'uso con la locale parrocchia siamo venuti in possesso di una zona che ci permetterà di avere diversi parecchi posti auto adiacente proprio al centro storico quindi anche qui stiamo predisponendo gli atti per realizzare questi nuovi posti auto le chiedo un po' di risposta le andrò a leggere diversi messaggi dei cittadini una zona recintata dove poter sciogliere i cani? Sì anche questa domanda è importante zona individuata abbiamo avuto delle lungaggini amministrative ma anche questa è una promessa che assolutamente dobbiamo portare in concretezza quindi nel giro di breve per dare risposta anche a coloro che hanno uno dei nostri amici a quattro zampe domanda al sindaco illuminazione dei passaggi pedonali esempio passaggio pedonale strettoia sì illuminazione abbiamo predisposto un progetto di 30 mila euro per la segnaletica stradale nel quale abbiamo inserito anche dei punti luce per gli attraversamenti pedonali quelli a fascio di led che illuminano perfettamente la zona del passaggio il primo è stato installato proprio nella strettoia quindi fra via Zara e piazza Umberto primo dovremmo installarne anche altri e faremo anche insomma questo intervento a favore della sicurezza dei pedoni e non solo grazie Davide miglior sindaco che San Lorenzo in campo abbia mai avuto ancora un altro complimento per lei finalmente un sindaco che fa il primo cittadino per il bene del suo paese brevemente le chiedo ora una risposta perché abbiamo già trattato questo argomento però è doverosa una precisazione siamo cittadini radunati in un bar non si è capito bene se l'allevamento Fileni si farà oppure no brevemente sindaco si farà o no molto brevemente allora il comune da parte sua farà in modo che non si faccia farà tutto quello che è nelle proprie possibilità come ho sempre detto sin dall'inizio noi siamo uno dei tanti ingranaggi all'interno di una procedura molto ampia però chiaramente con una serie di tasselli che poi magari anche nel consiglio sabato mattina dirò la vedo difficile che insomma possa essere realizzato questo allevamento Per il passo del ponte dei Sospiri non avete mai pensato di metterci un lampione? Per il ponte dei Sospiri in quella zona andrebbero messi dei lampioni senza il punto luce attaccato alla rete elettrica perché chiaramente costa più portare un punto luce dell'energia elettrica tradizionale che installare il palo della pubblica illuminazione quindi in questo progetto stiamo pensando di mettere come migliorie che chi si giudicherà il progetto finale potrà scegliere di aderire o meno di inserire appunto dei punti luce con il pannello fotovoltaico proprio per queste zone isolate dove un singolo punto luce è importante anche per la sicurezza e quella zona purtroppo è stata anche in passato c'è la strada 424 proprio lì ci sono altre due strade che si diramano strade comunali quindi è una zona dove sono stati anche incidenti quindi sicuramente è una domanda è una richiesta giusta e corretta Torniamo ad occuparci ora dei più piccoli quindi le chiedo informazioni sull'adeguamento della scuola sismica della scuola primaria quindi l'adeguamento sismico e poi per la mensa scolastica perché ci sono anche qui degli investimenti Sì per l'adeguamento sismico della scuola primaria siamo all'interno di una gravatoria per un progetto molto molto importante chiaramente il progetto è uno di quelli di quei bandi che dicevo prima siamo in attesa di avere delle risposte certe da parte del ministero se avremo anche queste risorse insomma potremmo anche qui aver risolto un altro problema e avere così tutte le scuole a posto dal punto di vista dell'adguamento sismico sono comunque sicure ma avrebbero bisogno di un miglioramento beh chiaramente certo sono scuole che oltretutto è l'unica rimasta che non è ancora adeguata dal punto di vista sismico dal punto di vista di legge quindi come normativa sismica è l'unica rimasta e quindi abbiamo ci siamo concentrati su questo sempre con i bandi dell'edilizia scolastica del ministero dell'istruzione menza scolastica menza scolastica è un altro di quei punti in cui in cinque anni precedenti abbiamo lavorato tanto non ho lavorato soltanto io su questo punto ha lavorato moltissimo la vice sindaco Luciana Conti che si sta ancora lavorando tutt'oggi su questo settore a parte il discorso del menu che è stato completamente rimesso nuovo quindi con maggiore attenzione alla stagionalità dei cibi alla rotazione di vari cibi anche il chilometro zero il biologico quindi anche qui c'è stato tutto un lavoro molto molto importante il plastic free un altro dei concetti che abbiamo introdotto già dallo scorso anno cosa abbiamo introdotto abbiamo introdotto un erogatore di acqua con un depuratore inserito all'interno che ci consente nella scuola dell'infanzia di eliminare moltissima plastica perché non c'è solo l'erogatore ma ci sono ovviamente le brocche in plastica i bicchieri sempre in plastica lavabili riutilizzabili e quindi abbiamo eliminato moltissimi chili moltissimi chili di plastica non solo questo perché a breve arriveranno le borracce per tutti i ragazzini arriveranno altri tre erogatori di acqua uno per la scuola dell'infanzia e due per la primaria e non solo questa foto ci fa vedere cipolla di suasa grazie c'è un coltivatore di cipolla di suasa di castellione che ci ha fatto questa bella donazione quindi una delle eccellenze del territorio potrà essere gustata all'interno della nostra mensa dulcis in fundo una cosa che do qui diciamo in anteprima non l'ho detto da nessun'altra parte abbiamo vinto un bando del ministero delle politiche agricole forestali per le mensi biologiche siamo soltanto due comuni della provincia di Pedro ad averlo vinto e quindi avremo la certificazione del ministero di essere mensa scolastica biologica e ci arriveranno non solo la certificazione ma ci arriveranno anche diverse risorse importanti che non fanno mai male e quindi avremo anche questo bel risultato e qui gli uffici hanno lavorato tanto ha lavorato tanto l'ufficio demografici scolastici il dottor Gabriele Persanti ha lavorato Paolo Mattioli hanno lavorato in parecchi su questo e ovviamente ha lavorato molto la commissione mensa che ringrazio per quello che ha fatto e per quello che sta facendo per il lavoro attento e puntuale che sta portando avanti altri complimenti per lei per l'impegno insomma che sta avendo per il lavoro che ha svolto sin dal primo giorno del suo insediamento esiste in ambito comunale un regolamento per lo smaltimento dell'Eternit ci sono delle abitazioni con dei capanni appunto che hanno Ethernet quindi forse è un po' pericoloso allora a livello comunale non c'è una regolamentazione particolare però c'è la normativa nazionale qui ovviamente quindi la regolamentazione c'è la regolamentazione c'è qualsiasi cittadino che ha questa vuole farci delle segnalazioni ovviamente noi agiamo secondo legge in maniera immediata su questi temi un marciapiede tra Ronaglia Basso zona variante fino alla rotatoria zona nuova sarà possibile? da Roncaglia? sì sicuramente roncaglia roncaglia bassa zona ponte ponte rotto chiamiamolo così in quella zona iniziano a esserci diverse abitazioni tutte abitate tutte abitate da persone anche ci sono parecchi bambini ragazzi in quella zona e quindi sicuramente è una cosa su cui possiamo iniziare a ragionare chiaramente è un investimento diventa un investimento importante dovremo anche interfacciarci con ANAS perché dovremo affiancarci alla strada la 424 che oggi è proprietà e gestione di competenza ANAS quindi sicuramente possiamo iniziarci a lavorare su questo tema so che diversi cittadini ce l'hanno infatti chiesto questo intervento le ore dell'assistente sociale sono state incrementate sono state aumentate vero? Sì anche sul sociale stiamo credo facendo un buon lavoro il sociale come sempre è un lavoro che si vede poco perché molte volte sono degli argomenti personali dove c'è la privacy dove ci sono minori dove ci sono bambini dove ci sono situazioni particolari però è un lavoro importantissimo anche qui gli uffici si danno veramente danno tutto loro stessi per rispondere alle problematiche e da 8 a 26 ore se non vado errato la presenza dell'assistente sociale questo grazie devo dire grazie all'ambito territoriale sociale sei di fa la dottoressa Caldenzi il presidente Dimitri Tinti che hanno visto questa esigenza con dei fondi hanno ridistribuito delle ore quindi a noi ce ne hanno riconosciute 26 assistente sociale dottoressa Alessandra Zanchetti veramente in gamba che svolge oramai da tempo nel nostro comune questo servizio bonifica discarica San Vito le chiedono? esattamente questo è un altro tema molto molto importante la discarica San Cristoforo così denominata pur essendo formalmente in territorio di Pergola perché non è nel territorio di San Lorenzo ma in quello di Pergola diciamo che i territori maggiormente interessati sono ovviamente Pergola San Lorenzo in campo e per alcune parti anche Fratterosa tant'è che c'è stato un progetto che è stato vagliato dal suo per lo sportello unico attività produttiva del comune di Pergola un progetto che al momento è stato ovviamente stoppato sulla quale c'è però una tensione da parte dei tre comuni Pergola San Lorenzo in campo Fratterosa affinché si possa fare intanto una caratterizzazione dell'area e poi vedere quello che insomma è la proposta però è una cosa che è stata subito attenzionata e subito messa assolutamente in rilievo proprio per la diciamo importanza del tema e come è molto oltretutto un tema molto sentito degli abitanti di quella zona ci hanno scritto che il sito non è tanto adatto secondo lei ha bisogno di un restyling il sito internet sito internet penso di sì penso che si riferisca a questo sito se il sito internet non lo so non so se parli di pollaio visto che di allevamento visto che ne abbiamo parlato o di sito inteso come sito web il sito internet comunque è stato rifatto cinque anni fa all'inizio del mio mandato è un sito moderno oltretutto costantemente aggiornato perché ci lavoriamo in continuazione per tenerlo sempre aggiornato se è quello non lo so rimaniamo su questo eventualmente perché ancora parlare di allevamento allora andiamo avanti perché le volevo fare anche altre domande che riguardano la cultura il teatro anche qui ci sono state c'è stata un'attenzione particolare sì il teatro è un luogo che va vissuto il teatro il teatro il nostro teatro il teatro tiberino il teatro ottocentesco all'interno del palazzo della rovere il teatro è un luogo fragile è un luogo delicato è un luogo che però va aperto va tenuto aperto e va fatto vivere all'interno di questo teatro è iniziata il 10 di gennaio la stagione un palco mille emozioni dell'anno 2020 qui ci riferiamo in questa immagine forse all'evento più prestigioso che abbiamo all'interno del teatro ovvero il premio lirico internazionale Mario Tiberini della professoressa Giosetta Guerra va fatto dicevo va fatto vivere e va continuamente incentivato sono stati fatti molti lavori soprattutto impiantistici quindi impianto luci impianto audio impianto video proiezione ovviamente i lavori per l'adeguamento antincendio del teatro Tiberini e partiranno il 10 di febbraio e avranno termine a fine di marzo invece dei lavori importanti sulle centrali termiche erano rimasti due centrali termiche a gasolio fra i nostri edifici teatro e municipio teatro a fine marzo eliminiamo finalmente il gasolio costo dell'intervento 50.000 euro sono 50.000 euro fatti con un finanziamento che ci è stato dato dal ministero in questo caso per quanto riguarda invece l'altra centrale termica con il progetto che dicevo prima con il progetto financing porremo fine anche lì all'era del gasolio e dicevo del teatro il teatro anche quest'anno avrà spettacoli in cartellone spettacoli fuori dal cartellone circa 10 spettacoli anzi qualcosa di più alla fine saranno e ci fa piacere vedere che quando spesso e volentieri il teatro è pieno è vissuto il teatro è pieno di ragazzi quando i ragazzi vengono al teatro si è vinta una sfida perché comunque vuol dire che si sta creando lo spettatore del futuro avremo una bellissima iniziativa anche questo weekend grazie alla nostra Proloco con l'adesione anche quest'anno alla giornata nazionale del dialetto delle lingue locali anche qui interessati tanti bambini della scuola primaria grazie all'impegno delle loro insegnanti insomma il teatro è poi è una stagione fatta per tutti i tipi di spettatore perché dai grandi classici al teatro comico al teatro di impegno civile avremmo la settimana prossima Giobbe Covatta insomma per un teatro quindi anche tutte le fasce di età tutte le fasce di età tutte le fasce di età e tutti i tipi di spettatori teatro è aperto il varcare la soglia del teatro è una cosa importante farlo da subito farlo da piccolino quando ti rendi conto che all'interno del teatro non è che ci sia qualcosa di strano qualcosa che non riesci a comprendere no il teatro va vissuto e va amato quindi investire sulla cultura è fondamentale è fondamentale quindi c'è lei si deve partire dal basso esattamente il progetto Paese della Musica di cosa si tratta? Paese della Musica è una cosa che abbiamo lanciato qualche anno fa abbiamo lanciato come una sfida abbiamo detto abbiamo fatto una riunione con diverse associazioni abbiamo costatato un dato di fatto ovvero che a Salorenzo in Campo la musica è un aspetto molto importante della vita comunitaria fa parte proprio delle nostre tradizioni fa parte delle nostre tradizioni per alcuni motivi particolari intanto teatro Mario Tiberini Mario Tiberini il nostro cittadino più illustre tenore dell'Ottocento premio lirico internazionale Mario Tiberini la scuola media indirizzo musicale che è attiva da quasi 40 anni da più di 40 anni corso di orientamento musicale indirizzo bandistico tanti gruppi fatti da ragazzi e meno ragazzi attivi che per esempio si esibiscono tutti gli anni nelle serate che organizza Hauser sempre nel teatro Tiberini a inizio dell'anno ma non solo perché poi abbiamo abbiamo lavorato su questo tema abbiamo creato degli eventi ad hoc abbiamo creato delle manifestazioni specifiche e abbiamo creato alcune cose molto importanti direi corso di orientamento musicale anche indirizzo corale e abbiamo rifondato la banda mancava da tanti anni qui dei cittadini c'erano anche degli elementi ci sono tuttora degli elementi importanti assolutamente sì poi abbiamo un'ottima collaborazione con la banda di Castellone di Suasa la banda mancava da tanti anni da alcuni decenni a San Lorenzo era una cosa che non poteva mancare tutti non dico tutti ma quasi tutti da una certa età in poi da un certo annato in poi hanno avuto fra le mani uno strumento l'ho avuto io suono pianoforte mi diletto suonare pianoforte e quindi un po' tutti hanno avuto uno strumento grazie alle scuole a indirizzo musicale che abbiamo nel nostro territorio non potevamo non averla qui dei cittadini benemeriti direi si sono messi al lavoro insieme al comune insieme a me per rifondare la banda e stiamo portando avanti anche questo progetto e li ringrazio a tutti quanti perché ci fanno vivere veramente delle emozioni importanti quando fanno i loro concerti l'ascolto fa crescere invece un altro progetto ma che è partito sempre da San Lorenzo esatto l'ascolto fa crescere qui è un progetto importantissimo per cercare di dare delle risposte a quelle situazioni di problematiche dell'infanzia dell'adolescenza fare una rete fra genitori cercare di capire sin da subito questi problemi sapere come affrontarli sapere con chi parlare in una comunità piccola come la nostra questo si può fare si deve fare ci sono state due persone che hanno Federica e Riccardo che hanno portato avanti questo progetto che è stato nella prima annualità finanziato dalle nostre associazioni locali interamente da Hauser Proloco Avis San Vito Giovani e Oratorio hanno tolto parte dei loro introiti in casi derivanti anche da manifestazioni che fanno durante l'anno e l'hanno messo in questo progetto un progetto che ha come riferimento tre fasi uno sportello di ascolto psicologico all'interno della scuola media degli incontri con i genitori degli incontri aperti a tutta la cittadinanza quindi quest'anno è stato riproposto ovviamente sempre l'associazione in primis ambito territoriale 6 di Fano ha dato un bellissimo contributo un altro bellissimo contributo arrivato dalla regione Marche direttamente e un progetto che si è ampliato anche ad altri comuni perché anche il comune di Pergola abbiamo coinvolto in questa progettualità e con l'amministrazione abbiamo avuto dei colloqui e stanno attivando dei servizi anche a Pergola e non solo perché poi abbiamo anche insomma esteso come almeno come patrocinio anche a Fratte Rosa Serra Sant'Abbondio e frontone quindi territori che fanno parte dell'istituto comprensivo Binotti di Pergola siamo in chiusura un'altra domanda il mercato settimanale dopo i lavori nella piazza tornerà a svolgersi nuovamente? allora il mercato settimanale attualmente è stato spostato nell'asse via Vittorio Emanuele II via San Demetrio quindi da Piazza Umberto I arrivare alla Basilica sinceramente sta avendo molto successo in quella posizione chiederemo non solo ai cittadini ma anche agli ambulanti quello che vorranno fare un'opinione perché in questo modo sta avendo un bel successo sta creando delle belle situazioni quando saranno finiti i lavori dell'ex scuola media quindi non parliamo di domani servirà ancora del tempo come ho detto prima vedremo quello che è meglio fare per tutti un attimo leggo l'ultimo l'ultimo ma creare un sito per ordinare i biglietti per il teatro non avete una sorta di botteghino allora il botteghino funziona in questa maniera molti degli spettacoli sono venduti tramite sono già venduti tramite internet quindi con i portali ufficiali live ticket viva ticket quindi in base a quelli che sono gli enti organizzatori di questi spettacoli quindi già molti di questi possono essere acquistati comodamente comodamente da casa per molti altri alcuni sono proprio ingresso gratuito d'offerta libera altri c'è la collaborazione del cartolibri del posto chiaro è che già i principali sono già attivi su delle piattaforme magari perché non è molto avvezzo soprattutto penso agli anziani molto spesso si è sistemato anche così qualcuno mi ha visto per strada e mi ha detto guarda voglio andare a vedere lo spettacolo di Covatta mi pronoto in biglietto basta che faccio una chiamata ma diceva anche in cartolibreria sistemo anche quella in cartolibreria alcuni alcuni spettacoli vengono venduti in cartolibreria complimenti Davide per l'attenzione che avete sui materiali edilizi che adoperate negli edifici la salutano e poi un altro carino che volevo leggerle certo che se il sindaco dell'Onti non avesse preso un abbaglio con il maxi allevamento avremmo sicuramente potuto proporlo come il sindaco dell'anno quindi un bel complimento direi non sono stato d'accordo con lei per l'allevamento però è andata bene in questo caso io sindaco la ringrazio per essere stato nostro ospite speriamo di poterla avere di nuovo presto nei nostri studi quindi intanto un saluto a lei grazie per essere stato qua con noi grazie a lei Simona e a tutti gli spettatori grazie ancora Davide Dell'Unti ringrazio anche Cristiana Guerra e Riccardo Sora in regia fra poco alle 22.30 ci sarà il telegiornale di mezzasera quindi il telegiornale di occhio alla notizia invece domani mattina alle ore 7 in diretta ci sarà la nostra segna stampa occhio ai giornali grazie ancora sindaco e buona serata grazie a voi grazie a tutti